Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! È venerdì, non vi lascio soli! Oggi volevo fare una cosa simpatica, ovvero chiedere a Siri, l'assistente vocale di Apple, che sicuramente tutti conoscerete, delle cose divertenti. Ho trovato cose da chiedergli perché molte non le sapevo. Vediamo un po' che cosa mi risponderà. Prima di iniziare, iscrivetevi qua sotto al canale, mi raccomando, e lasciate un bel pollicione in su. Siri, fammi un caffè. La cucina non è il mio forte. Siri, non sa cucinare. Devo andare in bagno. Ottengo indicazioni per bagno San Savino. No, non t'ho chiesto questo Siri, dovresti trovarmi un bagno, non le indicazioni per un posto che si chiama bagno San Savino. Chi ti ha creato? Sono Siri, vengo dalla California e mi ha progettato Apple. Di cosa sei fatta? Di qualcosa molto simile al pensiero puro. Andiamo sulle cose un po' più divertenti. Siri, cantami una canzone. Non ti piacerebbe. Bisogna chiederlo più di una volta a Siri di cantargli una canzone. Quindi riproviamo di nuovo. Siri, cantami una canzone. Preferirei di no. Riproviamo un'altra volta. Siri, cantami una canzone. Sai che non posso cantare, Barb. Riproviamo un'altra volta. Siri, cantami una canzone. Ti risparmio la scena. Non vuole assolutamente cantare, però se uno insiste tante volte, prima o poi si mette anche a cantare. Siri, raccontami una barzelletta. Fammi pensare. No, non me ne viene in mente nessuna. Siri, raccontami una barzelletta. Quanti iPhone ci vogliono per... Ok, lasciamo perdere. Siri, sono stanco. Cosa dicevi? Sono stanco. Ascolta, perché non metti giù il tuo iPhone e schiacci un pisolino? Io ti aspetto qui. Grazie Siri, vuoi farmi dormire alle 9 e 18 di sera? Potrebbero metterti tipo l'orario quando a mezzanotte e mezza gli chiedi una cosa del genere e si devi andare a letto. Siri, sei fidanzata? È complicato. Siri, come sono? Semplicemente fenomenale, Barb. Non è quello che volevi sentirti dire. Grazie Siri. Io come sempre ho la telecamera scarica. Vi saluto, vi mando un grosso bacio. Vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto e lasciare un pollicione in su e commentare. Ci vediamo martedì con un nuovissimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Pucci a tutti ragazzi! Fuuu!